Due parole, prima di tutto grazie per questo invito sia al sindaco che all'assessore, adesso se c'è un governo in cui possiamo ritenerci tutti parlamentari a tutti gli effetti operativi, io sono parlamentare del territorio, rappresento anche Merate, per cui sicuramente potete fare conto su di me per quanto riguarda lo sport. Questa sera è un piacere anche poter essere qui per Simone che io remuto, come dicevo prima, anche all'assessore, l'eccellenza, veramente una persona straordinaria, ha fatto salvo di tutto lo sport straordinario, di tutte le sue discipline perché gli aiuto e perché chi pratica lo sport fin da piccolo impara anche la disciplina, secondo me, nel vivere.